Ieri abbiamo celebrato in modo molto discreto la festa della liberazione e la festa della liberazione ci ricorda che non ci può essere una società fondata sull'odio, fondata sulla mancanza di dignità della persona umana, sull'abuso della dignità della persona umana. Non si può fondare una società giusta nel razzismo, ma neanche nel disprezzo della vita. La festa della liberazione ci ricorda che la vita dell'uomo è degna dal momento della sua concezione fino al momento della sua morte naturale e chi ha lottato per la liberazione, chi veramente ha lottato per la liberazione, ha lottato proprio per la dignità della persona, nella sua integrità, senza sconti. E sono quelli che hanno veramente celebrato la liberazione. Però a che sarebbe servito una liberazione umana, politica, da un'oppressione di un tiranno, di un sistema ideologico, egoista, fondato sull'orgoglio? A che sarebbe servito se noi continuiamo ad essere schiavi? Perché la schiavitù non è una cosa che ha a che vedere con la libertà esterna. Questo è solo un aspetto e la dignità della persona chiede che ogni uomo venga rispettato nella sua dignità e nella sua unicità come figlio di Dio. però c'è dentro di noi una catena che ci lega al peccato, che ci lega al male, che ci lega soprattutto alla morte. La morte è la grande signora, a quella signora alla quale non si può mai dire di no. E allora qual è la vera festa della liberazione che noi celebriamo? Noi l'abbiamo celebrato ieri, l'abbiamo cominciato a celebrare tre settimane fa con il mistero pasquale della morte, della passione, morte e risurrezione del Signore. È Lui il campione, è Lui il re mite che non manda i propri sudditi alla guerra ma con se stesso per salvare ciascuno di noi, per darci la libertà ultima, definitiva. Ce lo dice Pietro nella lettura di oggi. Non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ma con il sangue preziosissimo di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Se io sono libero, se io posso dire di vivere un'esistenza libera e quindi felice, e quindi seguendo solo lo Spirito Santo, è grazie al sacrificio di Cristo. Abbiamo cominciato a celebrare la festa della liberazione nel momento in cui Cristo ha vinto per noi. E una volta che siamo stati liberati, allora sentiamo dentro del nostro cuore ardere all'ascolto delle sue parole, nella lettura della parola di Dio, nella lettura dei segni dei tempi, perché la parola di Dio ci aiuta a comprendere i segni dei tempi, a sapere qual è la cosa giusta da fare e ad essere liberi per camminare verso il bene, per camminare verso l'eternità senza la schiavitù del peccato, anche se continuiamo a sentirla. Per quale motivo i discepoli sono tornati pieni di gioia? Per le proprie forze? Perché sono stati intelligenti di capire il senso profondo della storia e si sono liberati? No, perché Cristo ha liberato il loro cuore, perché Cristo ha portato luce e pace e serenità e coraggio e tutti i doni dello Spirito Santo insieme che irrompono nel cuore dei discepoli e fa di essi da uomini schiavi della paura, schiavi delle proprie concezioni culturali, schiavi di ciò che diranno gli altri, diventano liberi. La vera liberazione, questo lo dice Romano Guardini, è una cosa molto bella, la vera liberazione non è che io resto libero, ma che io lascio libero Dio nel mio cuore, che grazie allo Spirito Santo, grazie alla virtù che viene dalla croce e dalla risurrezione di Cristo, lo Spirito Santo diventa libero dentro di me e mi può spingere a fare miracoli e mi spingere a fare grandi cose, grandi cose che non sono cose che si vedono, perché è la preghiera a muovere le montagne, ma non la nostra preghiera, ma l'azione dello Spirito Santo che ci verrà donato alla Pentecoste, ma che già è presente prima dell'avvento della Pentecoste. I discepoli tornano pieni di gioia, liberi, senza le catene, tornano, trovano i propri fratelli, confratelli, non ardeva il nostro cuore nel petto quando ci spiegava la scrittura, davvero il Signore è risorto, Lui è la nostra liberazione, Lui è la base di ogni liberazione. Se noi siamo stati liberati da Cristo, allora non c'è nessuna potenza che ci possa contenere, che ci possa schiavizzare, nessuna potenza di questo mondo, ma soprattutto nessuna potenza interiore. il nostro egoismo, la nostra vanità, i nostri pregiudizi, la nostra brama di soddisfazione mondana, di tutto questo ci ha liberato dentro il Signore. E per questo dobbiamo celebrare e vengano le feste della liberazione, ma non ci dimentichiamo che l'unica liberazione vera è quella del cuore, e questa non viene per le armi, questa non viene da un'ideologia, tant'è vero che tutte le ideologie alla fine si sono manifestate fasulle, tutte le ideologie tentando di liberarti poi ti schiavizzano di più. Solo Cristo libera. e a questa libertà è alla quale noi tutti aspiriamo. Spero di non essere stato politicamente incorretto, penso e voglio solo di essere cristiano davvero convinto, ed è questo che voglio trasmettere a voi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.